...con la sua canzone, Cosa ti aspetti da me? Per lei è l'undicesimo festival di Salaimo! Lo verrà la partenza e ci regalarà grandi emozioni! E? Facciamo ancora qualche scatto quando regalò? Per lei è l'undicesimo festival del colare.... E ricordiamo che è l'ora della vertente, la quarta serata duetterà con i regni grandi. Proviamo a sentire il gusto del pubblico, bello, pubblico, 3, 2, 1. Il tetto si raggiungono, qui davanti al teatro Aristone, la grandiosa Batti Bravo, mi sei la briga, ben arrivati. Signori Batti Bravo e briga. In gara con la canzone, un po' come la vita. Decimo festival di Sanremo per Patti Bravo e primo festival per Briga. Due solisti, una pazza idea. Signori, ringa. Ciao, ciao, benissimo, ben arrivati, qui, qui, con l'oro per fare, l'anima che toglie, vai. Qui, 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 qui c'è l'entrata. Venga, tutti per te. Signori Batti Bravo. Signori Batti Bravo. Meraviglioso. Ringa anche la terza parte, voglio fare qualche spot con la terza parte. Eccoli. Bentornato al festival di Sanremo. Signori Batti Bravo. Signori Batti Bravo. Signori Batti Bravo. Signori Batti Bravo. Ricordo per loro. Qualche scatto, bene, qui, qui, qui. Andiamo qui, ragazzi, venite? Un passo indietro, grazie. Grazie Lino Lancio, Lino Giacori. La loro canzone. In alta luce. Sesto festival di Sanremo per Lino D'Angelo. il primo festival per Lidio Gori ancora, ancora, vedete qua, non andiate freddo, non andiate freddo, eccoli qua, eccoli qua spostatevi anche da questa parte, vai, vai, abbracciatevi la città di Sanremo, l'abbraccio grazie Lidio, grazie, giratevi anche da questa parte, anche da questa parte grazie Lidio Gori signori Il Folo, eccovi qui, ciao ragazzi, ben arrivati ben arrivati, ben arrivati, ciao ragazzi, ben arrivati Il Folo, grandi protagonisti ehi, ci aspettiamo davvero tanto la loro Il Folo, eccoci qua, ci aspettiamo davvero, davvero tanto buiosissime di ascoltare la loro canzone lo titolo con musica che resta Gianluca, Ignazio e Piero l'avranno triunfato nel 2015 con la canzone Grande Amore ed eccovi qua, lì il volo ragazzi, aspetta, guardate da questa parte, ancora questa parte l'esercizionale l'esercizionale forse potremmo dire il più bello del festival che saremo NEC ciao a tutti qui, qui per le porte, vai, tutti per te prego NEC tienilo, 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 c'è stato un buco in mano, vai NEC ed eccolo qui questo canzone mi farò trovare pronto e noi ci vediamo di E, non avremo dubbi Lui dueterà con Nero Marcole Grande NEC, bentornato, questo è un isolevo signori, ecco NEC che ha scaricato Lui macchina fotografica, Arione Inizia e Circus Buon applauso anche per loro, facciamoci sentire, saremo La loro canzone, l'amore è una dittatura siamo molto curiosi ad ascoltarvi ragazzi Francesco, Andrea, voce in Italia Karim, eccoli qua allora il primo festival di Sanremo meglio qui direi di fargli un unico calumbo facciamoci sentire, pubblico Benzene Circus, eccoli qui dopo ragazzi giratemi anche da questa parte che abbiamo anche fotografi e le immagini da questa parte giratemi da questa parte, grazie anche di qua e poi di nuovo di là, grazie è un sacco di foto che le vogliono scattare e li stanno chiamando, li stanno chiamando per la giacchetta e così, questa è il festival di Sanremo ma mentre in Zen Circus stanno facendo gli ultimi scatti signore e signori ladies and gentlemen bellissima Alisa ben arrivata ben arrivata prego, tutti per te mi sento bene mi sento bene mi sento bene e Alisa dice volete stare bene ho dei consigli per voi questo è il suo sesto festival di Sanremo guetterà con Tony Hanley e Katakoff signore e signori e intanto qui pronto ad aspettare il suo momento Daniele Silvestri Daniele Silvestri è quello qui insieme ancora prego ragazzi ben arrivati è una canzone Argento vivo sesta volta per Andrea Conn qui per noi al festival di Sanremo guetterà gli ultimi po' di pinocchio con Manuel Agnelli e lui diceva che deve a Facebook un po' questa ispirazione di questa canzone un contesto da scoprire parla dei giovani dei giovanissimi del mondo dei ragazzi dunque una canzone da vivere da ascoltare eccoli qui allora ragazzi scusate Daniele Silvestri grazie anche da questa parte dopo le foto di qua vi girate anche di qua perdono tutti grazie mille eccoli che stanno arrivando con noi è il momento sulle tablet di Federica Carta e Sade ne hanno già presi per gli autografi beh giustamente eccoli qua Federica Carta e Sade ben arrivati ragazzi eccoli qui per una canzone senza farlo apposta primo festival di Sanremo per loro due terreno con Cristina D'Avena nella serata di maggior di eccoli qua Federica Carta e Sade anche qui una canzone da ascoltare dovrebbero insieme e quindi Federica Carta e Sade fanno gli ultimi scatti e già pronto qui con me pronto per entrare davanti alla scheda di fotografi signore e signori ultimo la canzone lui si presenta con i tuoi particolari ha vinto l'anno scorso delle nuove proposte e torna quest'anno dalla categoria big ma sta avendo un enorme un grandissimo successo ultimo ben arrivato qui con noi il Red Cup il festival di Sanremo la città di Sanremo questo è il suo magico abbraccio due terà con Fabrizio Moro nella serata di venerdì sera ultimo e con l'ultimo che è sta anche da questa parte ma io sono paura questa parte che ti aspetta la cura in bocca al lupo facci sognare signore e signori e con il super carpet meravigliosamente bella Paola Tucci con la sua canzone l'ultimo ostacolo la sua unicesima partecipazione al festival di Sanremo l'inizio dell'89 delle nuove proposte fissate e due terà la venerdì sera con Giuseppe Tiramello Paola Tucci ciao Paolo ciao Paolo grazie anche da questa parte ma ti vogliono qui e poi dopo non sguardo che era questa teia sei circondata Paola la città di Sanremo signore e signori è pronto per fare l'ingresso davanti a voi motta prego motta benvenuto lui si presenta con la canzone dov'è l'Italia questo è il suo primo festival di Sanremo dovete andare con NADA nella quarta serata motta in cuoco al lupo ancora aspetta aspetta c'è ancora qualche scatto no questa parola che sono tantissimi qui vai aprile e divertiti motta è tutto il festival per te goditelo signore in motta Sì è il motta version eccoli qui arrivate all'improvviso fermi dove andate dove andate fermi qui 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 che vogliamo qui centrali vai ragazzi motta version con una canzone per un milione questa loro canzone le canteranno il festival di Sanremo Angelo Fabio Paolo e Angelo eccoli qui e anche per loro questo è il primo festival di Sanremo noi vi immaginiamo l'emozione in questo momento che andremo prima nel vivo ragazzi bonda ma scusate anche da questa parte noi dopo girate anche da questa parte io voglio mettere anche da questa parte vai fateci qualche faccia a me lo vai sì bonda bascia e mentre bonda bascia è arrivato con noi Simone come è che gli sticchi bene arrivato Simone aspetta Simone aspetta aspetta qui 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 vieni tutta la tua centrale perché ti vogliono fare miliardi di voto vai Simone una canzone una canzone meravigliosa dal titolo Abbi cura di te Simone Cristicchi la sua vittoria nel 2007 con il regalo una rosa e domani Simone domani Simone posso dirlo Simone posso dirlo signori e signori Simone Cristicchi domani compie signori auguri auguri lasciamogli un bello piatto è l'uno Simone 3 2 1 auguri Simone buon compleanno bene quale miglior modo per festeggiare il compleanno ogni tipo di vino che al festival di Sanremo non male Simone Cristicchi e sta arrivando di nuovo di un protagonista con noi signore e signori laser jack Achille Lauro la sua canzone è la loro la voce è lui il primo festival di Sanremo nella serata di Viverdini duetterà con Morgan ben arrivato signori Achille Lauro i soletrati con noi sul recapit del festival di Sanremo signori e signori anche da loro ci aspettiamo una grande canzone siamo davvero curiosi di ascoltarli non vi ho ancora detto il nome perché voi qui ancora non avete avuto modo di poterli vedere ma sono già sul recapit giustamente tirati con la giochetta stanno arrivando i Negrita eccoli qui ragazzi ben arrivati Red Garden per voi il festival di Sanremo in Egrita ben arrivati eccoli qui bravi braccio al cielo signorista di Vicando a Sanremo in Egrita la loro canzone i ragazzi stanno bene oh la scelta veniva aspettate non andate via ancora un attimo vi vogliono fare molto in fatto un gioco di ruolo da questa parte grazie ragazzi venite anche la guarda un po' più in su un po' più in su vai vai apriamo le braccia passiamoci vedere ragazzi il festival di Sanremo è davanti a voi vai anche da questa parte da sotto a questa parte tra i nostri video ok grazie ragazzi la loro canzone si intitola solo una canzone signore e signori l'inizio è con noi prima volta il festival di Sanremo in Egrita e il festival di Sanremo ecco di qui esatto ragazzi stanno legando su di voi di Sanremo in Egrita in Egrita e Exo Otago ragazzi da questa parte Anche da questa parte Anche da questa Eccoli qua Exo Otago 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 Io vado, se no io riprendo questa gara. Poi, naturalmente, Veno, 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 Veno. Veno, 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 Veno. Veno, 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 Veno. Veno, 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 Veno. però la sua propria dire che quando riguarda la battuta del salire a fronte realmente guarda, devo dire che c'è forse un altro piano, però non c'è neanche il verbo Allora, intanto noi stiamo trovando l'audio, pubblico, 5 minuti siamo in diretta, mi raccomando, fatevi sentire, date tutto quello che avete, urla, dovete dare veramente di più, di più, di più, facciamo una piccola prova, ciao ragazzi, ciao, ciao, facciamo una piccola prova, pubblico, 3, 2, 1, perfetto, questo urlo, questo entusiasmo deve essere per gli ultimi sei che arrivano qui sul red carpet, mi raccomando, vediamo tutta la vostra energia, mandiamo a casa e tutta l'Italia una cartolina magica, pronti, mi raccomando, quando dice la spontaneità, ci siamo, ci siamo, allora intanto si stanno preparando giustamente, abbiamo lasciato fare le loro prove tecniche, Bene, da Sanremo per questa sera è tutto, abbiamo mostrato una parte del red carpet, della passerella degli artisti in gara a Sanremo per questa 69esima edizione, è una serata evento, quella di questa sera, che tra non molto, però che seguirà anche in diretta per chi seguirà il Tg1, per quanto ci riguarda è tutto, torneremo in diretta con tanti altri ospiti, tanti commenti, curiosità e video racconti dalla città dei fiori domattina, buona serata a tutti in diretta da Sanremo, ciao.